Diamanti, D'Aprela, ora Vaz, il cross di Vaz per Eder! Il colpo di testa di Eder, il Brescia pareggia con il brasiliano, 1-1 al 42esimo minuto. Ancora centralmente sono fatti fregare, è solo di rivedere, non so se era Bonucci su... In mezzo si è inserito Eder, il fondo è uscito anche lui.